Ragazzi è saltata la luce, non sappiamo cosa fare, questo è il vlog perfetto sarà Bella raga, benvenuti nel primo video di questa miniserie dove vi porterò in un ritiro di squadra Ciao, stiamo facendo la spesa, adesso abbiamo quasi finito così poi partiamo Siamo alla ricerca delle monster per il presidente Lorenzo Silengo Ma non ne troviamo, mi spiace, mi spiace, eccoci qua, loro già pronti Direi che come spesa ci siamo Abbiamo un po' di acqua Aspetta, hai il gancio Eccoci qua Grazie Ed eccoci ancora, appena partito Quanta manca? Esattamente Troppe ore Un panino e via Ragazzi, occhiali da sole, anche se siamo tipo al buio, sta piovendo, fa freddissimo Entriamo in autogrill, seconda sosta di giornata e poi arriveremo prima o poi all'appartamento, all'hotel Siamo arrivati, eccoci qua, le stanze Questa è una figata, questa è tipo divanetti, zona divanetto Qui per la festa voi non vedete ma perché non dovete vedere, io sono sotto Qua c'è un'altra stanza Sì, puoi vedere, figata Qua costanza che sta male ma come ho detto non riprendo Troppi specchi qua dentro Qui la mia stanza E qui le altre Qua attenzione, le altre scande Si va giù Si va, si va, si va Uuuuh, madonna Uuuuh Mattio, non ha neanche roba Guardate qui Che Roba Direi Molto figo Approvato C'è un pesce palla Guarda, vedi che l'ho svuotato Pazzesco Vabbè, bello Guardate che vista Che non si vedrà niente Però Eccolo qua Sbam Sì esatto, non si vede niente C'è pure Guarda la piscina qui E là il campo da calcio Zona relax Posto cena Telecomando senza un tasto Però Molto figo Ciao raga Oggi Alla fine Siamo arrivati Dopodiché Abbiamo scaricato le bici Abbiamo fatto cera E poi Eravano tutti abbastanza stanti Io avevo anche un po' di mal di testa Quindi non ho ripreso E siamo andati a dormire Ci vediamo domani Bella raga Eccoci qua Oggi Il primo giorno Di allenamento Con la squadra E ritiro Abbiamo già fatto colazione E adesso ci prepariamo E usciamo Il tempo Non è dei migliori Perché c'è abbastanza vento E abbastanza freddo Però vabbè Vediamo Come si sviluppa la cosa Andiamo Ok Mi ho chiuso fuori Di conseguenza Dovevo aspettare che qualcuno mi apra Ora qua Ci sono Tutte le bici Adesso Le prepariamo Così poi Possiamo partire Andiamo Ragazzi guardate che vento Però funziona Io non voglio uscire con questo vento Guarda sono tutti pronti Borracce Non so chi è Ah Stefano Giulio E il Bocchius Ragazzi guardate qui stanno con questa special Guarda qua Con questo fantastico porta oggetti Da pensionato Però Va bene così Siamo partiti C'è tantissimo vento Un bel posizionamento È abbastanza freddo Però Dobbiamo fare Il lungo Un bel posizionamento Preciso Dopo mi metti nel tacchetto Va bene Vedo bene come il mio meccanico Minchia sì Guarda la tua mano Del mio Il carico Se poi ce l'ho Allora Finita la salita Ora iniziamo a scendere Vediamo come sono Questi sentieri Forse la parte Un bel da che parte Aspetta raga Ma mettete anche voi Ho già avuto troppa responsabilità Questa Tra l'altra Niente Vai Vai Perché raga Sono ancora Fuccia Da Che figo A Devi È È È A Quando Di Che 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 ecco figata figata Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Perché la traccia, secondo me, ti fa vedere tutti i sentieri. Eh? Hai ragione, sono finito le regolazioni. Eh, sei bravo. Poi che... Mi avevo fatto scato e chiesto. Sì, sì. Sì, sì. Questa lì si poteva fare, non mi usco. Sì, non mi sono fidati. Facciamo dopo. Ora vedi qualche video su questo bike parker. Ma... Su Facebook. Porca troia. Eh? Guarda che salita. Questa è una f***a. Perché solamente da fare in discesa. Questa è una f***a. Questa è una f***a. Sì. Lavoretti. Sì. Casa di frutta. Sì. Bellissimo! Oh la madonna. Ma che figo però. Ma che figo però. Questo secondo me è un anello eh. Sì. Ritorni su. Un sì e tre. Allora ragazzi. Purtroppo. La GoPro è scarica Quindi per oggi Niente più video con la GoPro Ora siamo qui in questo bike park E poi vediamo Che giro fare Sempre molto freddo Infatti ho sta roba qua bruttissima da vedere Però utile Eccoci raga Siamo a Tavulla Tavullia anzi E qua è dove c'è la pista di Valentino Nozzi Guardate che figata Ci sono le moto che passano Guardate qua Curva di Sassetta Oh veramente una figata Figo figo Peccato che fa veramente freddo oggi Eccoci qua Direi che per oggi Abbiamo dato Ho fatto i miei primi 3.000 metri di slivello 100 chilometri E adesso Questo tra l'altro È il panorama Guardate che figata Qua c'è anche il municipio Molto figo Ora vado a lavarmi Poi un po' di riposo E si mangia A dopo Bella raga Allenamento finito Come avete visto Abbiamo fatto 3.000 metri di slivello E 103 chilometri E 103 chilometri Sono abbastanza stanco Domani faremo altre 4 ore Credo Non lo so ancora di preciso E niente Adesso sono praticamente le 7 Prepariamo cena E poi andiamo a dormire Perché siamo tutti belli coppi A domani Unboxing serale Ragazzi è saltata la luce Non sappiamo cosa fare Questo Questo è il vlog perfetto Sarà Le bici ci sono ancora Almeno per il momento E niente Vediamo Cosa succederà tra poco Risolto ragazzi Salutate Padre Pio Qual è il vetto di Padre Pio? Pio Pio Non mettono È invece È luce di fuori